La Renault vi presenta la nuova Renault 4 Che tenuta di strada Che freni Che ripresa Dove gli altri non osano andare, voi correte tranquilli Che sospensioni la nuova Renault 4 Ecco la nuova Renault 4 La macchina che sognavate arriva per voi Per tutti voi Per voi che vivete in città In campagna Per voi che amate l'aria aperta Per voi che lavorate con l'automobile Sì, per voi ci vuole la nuova Renault 4 Quattro comodi posti Cinque porte E per il vostro bagaglio Spazio Tanto spazio Brindiamo alla vostra nuova macchina La Renault 4 Niente ingrassaggio Niente acqua Basta un po' di benzina E costa solo 650.000 lire